ben ritrovati e partiamo con un nuovo gameplay siamo sempre nella nostra parchetta abbiamo soldato un nuovo soldato che se avete visto il gameplay precedente l'abbiamo portato via a forza praticamente e dicono che è uno tra gli arcieri migliori ma staremo a vedere ci sono dei divertiti, io non ho visto nulla ah là, guardate abbiamo raccolti abbiamo raccolto il tutto la guerra ha cambiato il volto del mondo greco se non sono spartani e ateniesi sono banditi e pirati dall'umanità dall'umanità è lì che ho visto la testa è lì che ha visto? comunque siamo passati al livello 6 il nostro soldato è di livello 6 quindi abbiamo ho nell'inventario alcuni accessori di livello 6 ma preferisco ottenere ancora questa armatura al momento che anche se è livello 5 è l'inventario cosa facciamo? andiamo a batterli? sì purtroppo sì andiamo a batterli siete pronti? vediamo se ce la facciamo ci avviciniamo il più possibile poi cerchiamo di crasharle uno due tre via destra via via abbastanza via 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 Arcieri, avanti! Colpite! Attenzione, comandante, vengono... Più veloci! E ne vediate! Motte fu! Avviate! Forcone! Questa volta, però, mi avete fatto un bel lesso! Forcone! 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 Perfezione, avanti, uccido! Para! Poi... Poi... Vieni, vieni la cilindiria! Sā... Arcieri! Arcieri! Esi ! Ola! La battiamo, la mettiamo a salire, ora se mai la saliamo. La battiamo, la nave resiste, ma noi dobbiamo allontanarci, riproviamo! Voglio rilassarci, forza con i remi! Aumentare la velocità, arcieli! Prendiamo di noi, parti! Pronti all'argomento nemico, armatori, forza! Arcieli, parti! Non possiamo reggere questa velocità! Forza! Avanti! Vuotassi! Abbiamo tornato in posizione! Versaglia mancato! Arcieli, non siamo pronti! Non siamo pronti! Abbiamo tornato in posizione! All'argomento! All'argomento! Abbrassi! All'argomento! Siamo riusciti. Non capisco, perché non possiamo mandare giù le vele? Non abbiamo mai pazienza a noi, vero? Siamo arrivati al porto. Vediamo qua cosa succederà. Vedremo. Ho provato di uccidere il re spartano, mi scoccia un po' a dirvi la verità. Più che altro perché è spartano. Se fosse stato attenuto... Chissene. Ma spartano? No dai. Vedremo cosa succede. Che spettacolo! Guarda qua. Qua vedete? Hanno la armatura in bronzo. Vedete che io non riesco a capire bene. Perché se fosse l'epoca del bronzo dovrebbe esserci solo il bronzo. Ma è tutto un casaio. guardate come quel cane Ateniese di Pericle. Sì. Si nasconde nel suo partenone circondato da drammaturghi e sofisti. Lui non osa affrontarvi con onore sul campo di battaglia. Sa bene che siete troppo forti. Sa bene che i giorni di Atene in Megaride sono contati. e sa anche che Atene sarà la prossima. Anche fare un'armaturina così. Tu! Hai spezzato tu il blocco Ateniese. Mi stavano tra i piedi. Bella. Sparta ti è debitrice. Di che ti ha benedetto amico mio. Sei arrivato in tempo per assistere alla gloriosa vittoria di mio padre. Non può essere tuo padre. Ho sentito dire che i suoi figli morirono a Sparta molti anni fa. Mi ha adottò dopo che fu disonorato dalla sua famiglia precedente. Io non potrei mai tradirlo. A volte le cose non vanno come te le aspetti. La storia ha uno strano modo di... ricordarsi di te. Parli come se tu fossi stato lì. Forse è così. Che assurdità. Sei troppo giovane per aver vissuto queste cose. Ma basta con il passato. Parliamo del futuro. Cosa ci fa un mercenario nel bel mezzo di una guerra per cui non è stato assoltato? Dimmi perché sei qui o ti faccio affette per aver sprecato il mio tempo? È un onore servire Sparta. Sono qui per offrire la mia spada al lupo di Sparta. Se vuoi offrire i tuoi servizi a mio padre... Bella questa. ...farlo aiutando me. La flotta è distrutta. Ma la Megaride è sotto il controllo degli Atenesi. Dobbiamo indebolirli se vogliamo affrontarli in campo aperto e rispedirli ad Atene. E perché vi serve un mercenario per farlo? Avete a disposizione parecchi soldati. Sapete che mi piace dire scazzato. I Megarici sono nostri alleati. Non invieremo soldati finché non avremo la vittoria in pugno. I miei ricognitori stanno localizzando dei bersagli chiave. Vi aiuterò a liberare la Megaride. A giusto prezzo. Tipico di chi fa il tuo mestiere. Niente onore o senso del dovere. Ma è meglio averti con noi che contro di noi. I nemici hanno già un mercenario dalla loro. Non hanno bisogno di altro aiuto. Se riusciamo ad attirare il loro capo allo scoperto e a eliminarlo, schiaccieremo gli Atenesi sul campo di battaglia e li rispediremo ad Atene. Distruggendo le scorte, rubando il tesoro ed eliminando le truppe scelte. Dovremmo renderlo vulnerabile. Prendi questo e mostralo ai miei ricognitori. Se li incontri, contattali per ottenere informazioni. Potrebbero aver bisogno del tuo aiuto. Dov'è il capo degli Atenesi? È a Megara. Protetto da mura di pietra e da una guarnigione di soldati. Ma uccidi i suoi uomini, distruggi le sue scorte e derubalo e lo renderai vulnerabile. Forse so come agire. Ricorda, ogni soldato Atenese che elimini ci aiuterà a ottenere la vittoria. E quando avrò messo gli Atenesi in ginocchio per conto di Sparta, otterrò quell'incontro con Nicolau. Altrimenti toccherà artili. Manda quei cani Atenesi nell'Aden, Mistius. Fallo e il lupo si accerterà personalmente che tu venga ricompensato. cambiarti alla divinio di ricordare la propietà che ha di andare identificato. Poi lo stiamo irrazionato, andiamo a vedere cosa dice. Sono a livello 7. L'ho ben capito perché ci stanno rincorrendo, non siamo alleati, sono spartani quelli. Sì, sono spartani, io contro gli spartani, cosa vi avevo detto, non ci sarei mai messo. Scuserò fino all'ultimo ateniese responsabile di tutto questo, Vigliacchi. Quando saranno morti, Stendore saprà che sono degno di combattere al suo fianco. Oggi è il tuo ultimo giorno di vita. All'attacco! Ombra dell'Aquila, la tua vita si conclude. Come si pensano di distruggere l'armatura di Crono? O forse non hanno capito tanto come funziona la strada. Abbiamo l'armatura di un Dio nuovo. Questo chi è? No, guardate che... No, guardate che... Sì, il mio è il ultimo punto che deve... non capisco perché ci sono venuti contro loro ma che è successo erano spartane sono un professionista e un amico che cosa intendi dire se fossi stato io mi sarei preoccupato di nascondere le trasse a senso chiunque sia stato fatto in modo di essere scoperto o forse voleva mandare un messaggio mi manda stentore sono qui per aiutare come posso mi manda stentore sparta non controlla del tutto la mega per ora in questa regione mi posso muovere più liberamente di uno spartane gli atenesi si sono dimostrati più tenaci del previsto ma non resisteranno contro sparta certo chiacchiere finché non arriverà quel giorno glorioso dovremo scoprire tu hai qualche idea non ancora per il momento devo dare un occhiata più da vicino per capire cos'è successo sono stati dei professionisti a compiere questo massacro non credo che dei banditi ne sarebbero stati capaci a me investimenti mancano i rifornimenti non possono essere non hanno usato i carri il cavallo dal nulla è arrivato e allora il capo degli atteniti vediamo dove dove me lo danno però perché se devo far due miliardi di chilometri non so quanto ne erano appena il livello 8 andiamo via lì dai 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 Forza! Su, andiamo. Taglio. Taglio. Questa stava lì a guardare. Non l'ho ben capita anche questa. Questa proprio non l'ho capita. Era lei che guardava. Una strana terra questa. I lupi ci sono. Gli orsi. Zona di indagini. Però mi sembrava di aver controllato già qua. Fuori dai piedi per Zeus. Avate! Spostate! Sì. Chi è? Sono andati da questa parte nella foresta. Non credo che troverò altro. Sì. Devo fare rapporto. Guardate. È pieno di... di... di etnese. Sì. 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 Togli tutta la gloria. Fai fuori. Ora mi diverto. io mi diverto, non tu questo è la zona che mi sta piacendo oh oh che cos'è? che cacau non capisco perché mi dice ancora di chiacchierar con quello andiamo a chiacchierarci abbiamo fatto un bel po' di casino comunque non vorrei dire forse le notizie devo dargli, non potevo controllare lui per terra sono stati gli Ateniesi ho trovato dei frammenti di cristallo verde banditi le montagne sono piene di grotte e la guerra li ha resi più audaci c'è qualcosa che non torna in che senso? non c'è nemmeno un cadavere non degli assalitori almeno gli Ateniesi avrebbero preso i carri e i loro morti ma i banditi avrebbero abbandonato i compagni caduti allora chi è stato? non ne sono sicuro chiunque sia stato è andato nella foresta inizierò a cercare lui bene, è stata una bella risposta a questo allora ci salutiamo e ci vedremo e ci sentiremo in un prossimo gameplay ciao ragazzi ciao